Allora prendiamo il nostro foglio di gomma eva che tagliamo in maniera netta quasi della stessa grandezza della nostra base in polistirolo. Vi consiglio di tagliarla in caso un centimetro in meno o un centimetro in più per questione di comodità. Allora andiamo a scaldare il nostro foglio in gomma eva. Io lo sto scaldando con un forno da carrozziere ma voi potete usare qualsiasi cosa. Lo dobbiamo scaldare benissimo finché non si inizia a alzare i bordi ma questo già lo sapete. Se state guardando un video per fare una base in polistirolo probabilmente sapete già usare il foamy quindi sapete cosa vuol dire quando si scalda. Sapete riconoscerlo. Allora scaldiamo benissimo. Potete usare con questo metodo qualsiasi base in polistirolo. Perché tanto per quando andremo a finire la nostra base praticamente avremo proprio l'effetto di pasta di zucchero. Poi vi dovete procurare, scusatemi mi sono dimenticata, allora dei chiodini e degli spili comuni che ci serviranno per bloccare momentaneamente la nostra torta prima dell'arrivo della colla a caldo. Perché noi non usiamo nient'altro che la nostra base, il nostro foglio e la colla a caldo. E' il mio metodo, non so se poi è effettivamente corretto ma lo uso per ottimizzare i costi. Perché sinceramente mettere una base di colla prima lo trovo dispendioso e secondo quando vado ad attaccare la nostra base sul foglio poi rischio che mi si strappa perché non mi basta o perché l'ho posizionata male. Invece così posso cambiarla in qualsiasi momento. Ecco, ho scaldato il fommi e inizio la prima parte della stirata. E questa è una delle parti più importanti perché fatta bene questa poi è tutto più semplice. Quindi aspetta, giriamo la telecamera e inizio a mettere gli spillini. Il meccanismo una volta capito è facilissimo, veramente facile e veloce. Ora sto andando un pochino più piano perché per farvi vedere, infatti sicuramente fra un po' si raffredderà e quindi dovrò lavorarci un pochino di più ma sappiate che se andate, una volta che avete preso la mano in realtà è un attimo. Ecco, aspetta, si gira, rialzo la base, questo lo dovrete fare pure voi. Anche se lo fate velocemente dovete riscaldare l'altra parte, benissimo, ma questa è una parte più veloce perché il fommi è già un pochino caldo quindi andate, è molto più semplice, vedete? Non vi preoccupate le pieghette sopra perché poi le andremo a bloccare. Questa pieghetta la possiamo aggiustare subito e la andiamo ad aggiustare. Ma non c'è problema, questo sarà un problema di dopo. Eccolo qui, ecco lì. Eccomi. Ripeto, in realtà è tutto molto semplice, molto più veloce. Eccolo. Vedete come viene? Eccomi piantano, comunque, mentre lo state lavorando, comunque il vostro presidolo si sagoma tra il calore e le fommi che le accompagna, quindi darà comunque l'effetto pasta di zucchero. Quindi state tranquille, non mettete colla, non sagomate, non piucite a passare spatole e roba varia che non serve. Almeno per me non serve, e uso qualsiasi base di polistirolo in commercio. Ecco qui, arrivo da scaldare. Quando andate a scaldare, cercate di scaldare da sopra il fommi, dal mezzo verso davanti, in modo da non andare a interferire con il getto di calore proprio sul polistirolo, perché lì in realtà poi rischiate che si scalda. Allora, l'effetto del calore deve essere come quando asciughiamo i capelli di un bambino, quindi deve sentire il caldo, però non ci dobbiamo avvicinare. Quindi non so se avete l'idea di quando asciughiamo i capelli dei bambini con i capelli corti, che mettiamo la mano, prendono il calore, però li proteggiamo. Un pochino quello, l'effetto. Per non far succedere niente alla nostra base. Però con un po' di manualità è una cosa facilissima, veramente molta facile. Anche quando vi sembra che si è piegato, in realtà non si è piegato. Vedete? Io vado tranquillamente sopra il nostro polistirolo, in tutto che è quello comune, quello cinese in questo caso. Quindi potete divertirvi. Perché viviamo in un'epoca in cui non è che la gente non vuole darci tanti saldi, ma è vero anche che non ci sono. Quindi dobbiamo essere brave noi creative a creare un'alternativa. Eccolo qui. Diciamo che ci siamo quasi. Anche un pezzo, poi la ricontrolliamo, ma tanto non abbiamo incollato, quindi possiamo aggiustarla in qualsiasi momento. Eccoci ci siamo. Questa prima parte l'abbiamo fatta. Vedete? Io vado a riscaldare, altra volta, esattamente sopra. Stacco e rimetto. È un gioco dai ragazzi, non ho bisogno di colla. Perché ora vedete dove andiamo, con cosa ci andiamo a aiutare, prima di mettere la colla a caldo. Vi vedo, è un meccanismo, una volta che l'avete preso alla mano, vi verrà facilissimo. Ripeto, all'inizio vedevo dei video che mettevano la colla al centro, però poi quando andavo a tirare si rompiva la base. Invece ho trovato questo metodo che mi evita lo stacco. Perché comunque viene, non c'è niente che la blocca, la gomma. Quindi vado in scioltezza. È facile, facile, facile. Ovviamente dovrete provare, probabilmente buttare qualche base. Però se rimanete sempre con il concetto di come ve la sto spiegando, poi vi sembrerà, quando l'avete imparato, se vi sembrerà proprio una sciocchezza. Considerate che io l'ho capita, dovevo fare una torta a tre strati, il primo strato era uscito sì e no, il secondo, il terzo invece mi era uscita perfetta. Quindi lì ho capito come l'ha dovuto tirare. Quindi guardate anche il mio movimento delle mani nel tirarla. Vedrete che diventa veramente un gioco da ragazzi, usare questo metodo. Ecco, ha un costo bassissimo perché potete usare qualsiasi base. E considerate che la potete riaggiustare e modificare in qualsiasi momento. Guardate, già è perfettamente liscia, però io sono un po' precisina e quindi la vado a ritirare ancora. Se tanto so che la posso fare. Quindi qui c'è questa piccola grinsetta che a me non piace. E la vado a ripulire. Questi sono i miei primi video, li faccio col cellulare se mi accorgo che vi piacciono i miei video, fra virgolette, quasi tutti economici, sarò ben lieta di attrezzarmi con tecnologie più avanzate. Ora è proprio curiosità. Perché vi vedo, specialmente su questa parte della torta, quindi senza taglio, vi vedo tutte abbastanza impaurite. Invece è proprio facile. Tanto, ripeto, se provate a fare una base torta in gomma eva, sono sicura che già conoscete la gomma. Quindi sapete quando si scalda e fino a che punto potete andare. Non ve lo devo dire io. Questa è solo questione di manualità. O molte volte non tiriamo per paura di romperla. Eccola, mettiamola così. Ci siamo quasi, eh. La torta è liscia. Eccola qua. Perfettamente liscia. Ora mettiamo, e questa è una cosa che ho visto su un video e poi ho capito il perché. Allora, metto questi chiudini, quelli che ho unito, e li mettiamo praticamente nella parte più vicina al bordo che possiamo. Questi chiudini servono sia per aiutarci nel taglio dell'eccesso, poi avendo una punta un pochino larga, in realtà quando vanno ad entrare, praticamente servono a finire a tirare la gomma eva. Detto praticamente. Io non li faccio entrare tutti perché poi li vado a levare perché il video originale lasciava i chiudini all'interno, a me questa cosa non piace. Quindi li metto, quindi aspetto che un attimino dopo si raffredda prima di mettere la colla, in modo che si ferma bene. Mi aiuto con i chiudini nel taglio, anche se poi fondamentalmente si potrebbe evitare. Però, devo essere sincera, mi trovo bene proprio questo meccanismo. Per il tuo chiudino e con la spilletta, vado a distinguere il taglio, la linea di taglio e la parte di lavoro. Non so come spiegarle. Come se fosse la brutta copia e la bella copia. Pettiamola così. Quindi questo passaggio, volendo se avete spilli, spilli, fate due colori di spilli e la stessa cosa. Però considerate che da quando faccio le torte ho comprato questa scatola di spilli e questa scatola di chiudini e vanno che è una bellezza ancora. E qualche torta l'ho fatta. Allora. Vi ho fatto riposare, sono andata avanti. Eccomi qui. Questa è il risultato dei chiudini. Ora vi faccio vedere un attimino il taglio. Sono stata a buon ombria e li ho fatti vedere tutti. Diciamo che ho fatto uno stacco pessimo. Imparerò per la prossima. Vedete, so fare la base e non so fare i video. Eccomi qua. Iniziamo a tagliare. Però spero sia chiaro, veramente, perché... Eccolo qui. Allora, io in questo momento non mi sono scordata a prendermi una forbicina. Se prendete una forbicina riuscite a tagliare proprio vicino al chiudino. Che poi quando andiamo a incollare, anche se è così, è poco male, sinceramente. Perché tanto poi viene sotto. Poi viene aggiustata. E' importante che avete fatto le basi... Eccomi qua. Andiamo a tagliare tutto. Ripuliamo, ripuliamo tutto. Vi aiutate con... Ripeto, in un caso con una forbicina poi per ripulire. Eccolo qui. E iniziamo a incollare. Quindi leviamo il chiudino. Ritiriamo. Mettiamo la colla. Quando gli leviamo il chiudino, il chiudino lo prendiamo dal lato verso l'interno. In modo da pulirlo. Ti ho lasciato un chiudino attaccato per sapere dove sono arrivata con la colla. Eccomi qua. Scusatemi, c'è una pistola che fa tanti fili. Quindi ogni tanto mi brucio. Ogni tanto vado levando i fili. Eccomi qua. Metto la colla a caldo. Quindi ricordatevi che questa è l'unica colla che usate. Colla a caldo. Quindi vi ricordo una base in polistirolo qualunque. Oppure quella dei cinesi, come in questo caso. Quella che sto usando io. E il costo è quello. Un foglio di gomma eva, una base in polistirolo e la colla a caldo. Senza starci a impazzire. E prendiamo questi chiudini. E prendete gli sfilini per aiutarci. Quindi diciamo che la Tortown ha un costo bassissimo in questo modo. Una base torta. Che ci rende accessibile. Ci dà anche la possibilità di avere un guadagno maggiore sul nostro lavoro. Cosa che se mettiamo colli su colli su colli. Comunque hanno costo, sono colli professionali. Considerando che così non esistono buchi. Quando mettete la colla a caldo. Perché ho visto dei dilemmi. Come in questo caso vedete io lo sto mettendo praticamente in mezzo. Però quando punto, punto sopra la gomma eva. Vedete? Aspetto un minuto e vado col dito. Poi ovviamente ve la aggiustate. Dove potete tagliate la linguetta. E la riappoggiate. Io ora vi faccio vedere giusto. Tanto ripeto, sono sicura che chi vede questo video ha un minimo di esperienza con la gomma eva. Perché se no la cosa più comoda è fare il doppio taglio sopra e i lati. Quindi per fare questo lavoro probabilmente la gomma eva la conoscete. Poi se la conoscete anche meglio di me. Quindi non avete problemi nella parte sotto della torta a capire come aggiustarla. Ne sono certa. Il problema è proprio secondo me la parte logistica del tiro. Che poi fondamentalmente potete pure non essere tanto precise. Tanto vanno sovrapposte. Quindi non si vede la parte di sotto. Quindi potete scegliere voi. Se mettete un nastro potete anche evitare di impazzirvi. Se mettete sotto il nastro per distinguere le altezze potete anche evitare di essere precise sotto. Perché tanto non si vede assolutamente niente. Se invece praticamente la lasciate pulita con le forbicine vi date una mano e la appiattite benissimo. Io in questo caso mi dovrò mettere un nastro rosso. Quindi posso evitare di essere precisa. Poi chi vuole se gli stanno piacendo i miei video possono andare sulla mia pagina Facebook. Berta Filava e la riconoscete dai gomitoli. Lì trovate tanti schemi e tanti tutorial. Finora siamo stati una raccolta di tutorial, dei migliori tutorial del web. Ora sto provando. Ora dopo aver acquisito Penso abbastanza esperienza nel campo creativo. Ma dove devo ancora imparare ancora? C'ho tanto ancora di imparare. Ho deciso di mettere a disposizione vostra anche il mio di sapere. E ci sto provando. Per chi vuole ci sono gli schemi, c'è tutto. Chi sta piacendo questo video mi può mettere il mi piace. Ed è in modo da invogliarmi a creare altro. Sappiate che il mio modo di lavorare è molto economico. Perché purtroppo abbiamo tanta concorrenza. Quindi noi creative dobbiamo inventare il modo corretto per lavorare. Più che altro. Credo. Nella nostra creatività dobbiamo trovare il modo per lavorare in modo comunque pulito. Ma non avendo delle spese enormi. In modo da avere un guadagno. Un buon guadagno. Quindi se possiamo fare la stessa cosa usando meno materiale. Come in questo caso. Perché no? Ecco ci sono quasi. Ci sono qualche bolletta. Quindi utilizziamo le parti proprio più. Però ripeto. Nella mia successione andrà messa un nastro rosso. Perché ci saranno rose rosse. E il nastro rosso. Eccomi qua. Mi ho fatto. Per quello che serve a me. Per me va bene. Voi in caso con le forbicine le ritagliate e le rischiacciate. Ma è un gioco da ragazze. Se avete le forbicine potete farlo da prima. Quindi viene tutto preciso. Vedete? Anche in questo caso comunque è molto piatta. Eccola qui. È la nostra base. Et voilà. Vedete? Non ha un taglionetto. Ha proprio con la pasta di zucchero la piega. Perché scaldando continuamente come facciamo noi. Polistirolo un pochino. Segue la striscia. Segue la tirata. Eccola qua ragazzi. Grazie. E alla prossima. Grazie. 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 Grazie.